o il cazzo duro andiamo a palmetto almeno se il palmetto è pieno di cazzo 2 è colpa mia scendi vai vieni in fondo vieni in fondo con me cazzo io sto qua devi dà un sito e cazzo te devi venire da me cazzo sì che c'è sta gente dove sta dove sta e non lo so dove è una sciotta matteo bravo basta non te la metti mi sono staccato che ti lamenti non me lo metterò più aiuto aiuto devi dà osserva porto 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 non c'è armi e porca madonna atterrato l'ho atterrato l'ho atterrato l'ho atterrato a me è mai venuto un grampo su sulla gara di piccona te dali piccona te che mi ha piaciuto un grampo sulla gamba porco di apro come sulla damba come cazzo fai a giocare a seduto e farti finire i grampi a me è venuto un grampo aspetta c'è gente qua e un voto come te matteo è molto come te morto è morto è morto è morto è morto è morto cioè colpi di pompa colpi di bomba non lo so a me serve una bomba cazzo o io scendo questo palazzo che ok matto avvicinati a me io sto qua il mob dove stai al mobile c'è una zona dove pieno di computer da gaming così dobbiamo fare veloce perché arriva la safe e servono vendite cura le vende l'ho trovato prima di fronte a me gente ottenuto serenato serenato orco dio no cazzo è 78 io sono levato da dietro a destra dietro dai no 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 non mi dico che ci mori per favore ok quello la è guanita è quasi quasi guanita quello dai che ce la fai tosito tosito un attimo morti è grande di asso grazie sta partita è mia me la sento poi se vieni qua magari c'hanno vende questi sì c'hanno le vende qua matteo vado a parliutare quello di sopra dobbiamo andare matteo insieme come stai messo a darmi bene bene benissimo suga 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 di questi matteo la safe non è lontana però dobbiamo camminare perché non ci sono i rischi tranquilli tranquilli c'è uno scudone qui dentro ma fattendo scudone lo scudone lo scudone lo scudone matteo a safe matteo run run matteo run è vero e vero e vero e arriva ma guarda che è sceso guardate con chi sto giocando ragazzi e non so perché messi in giampa le mani su sulle scale sulle rampe non so vabbè arrivo 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 e andiamo 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 in sempre ci sei matteo sì ci sto servirebbe un fuoco un focolare un medica sopra la chiesa sopra il cucù sono gesta il quale sta chiesa sopra quelle colosseo e mele e mele mangia di le mele le mele le mele le mele le mele sopra sopra vedo mi era gesta un coso hai visto che è stabilità alla cassa va buona non fai niente ma io sto bene come armi c'è uno c'è uno c'è uno di vita us non è non è non è stato riuscito arrivando stai arrivando stai arrivando copriti copriti a sinistra sinistra ci sta uno di te coordinate coordinato ma te a 300 300 meno tu l'ha visto i video se c'era uno gli vogliamo uccidere andiamo in safe no andiamo in safe matteo ok stanno a sinistra mia comunque cazzo è quest'anno passato da me hanno restato il cammino gente sopra di me arriva 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 non arrivano sopra inservenza inservenza pensava se fumo come se la gente ci sta gente gente qua gente qua gente qua o c'è la poi sono moglie la tutta la ha tenuto uno a te dentro però due morti 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 non entrare non entrare che prendita ok ammazzati tutti e due ma andiamo sopra la sef la sef la sef lenta che c'è la trappola ci sta la sef sta arrivando la sef meno male che questi erano amici tuoi ma non c'erano i giorgini erano due giorgini qua c'è uno scudone da 50 riesce a portarlo eh no c'ho le bende voglio vincere game ce la facciamo a vinci un game almeno uno dai primo game vengo in vita mia in solo l'abbiamo vinto in due due prendere le ground vero voglio vedere un attimino prima di cerco di capire prima dove sta e c'è trappole matteo c'è trappole l'inventario 10 persone no no matteo non stare qua scendi 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 che c'è la testa fuori ok c'è sotto di me uno due sotto di me uno laserato matteo atterrato non stare non stare esposto matteo matteo non stare così alto entra esci entra ed esci entra ed esci matteo non stare fermo non stare fermo matteo chi è che spara c'è qualcuno che spara e ti sparano stai fermo cazzo non ti muovere ma l'ho chiapato matteo stai giù stai giù matteo stai giù stai giù stai giù stai giù matteo scendi matteo spara entra esci entra esci entra esci entra esci non devi stare sempre fermo e brava sta gente matteo ma che cazzo stanno sparando quelli matteo siamo insieme il tempo reggiamo non sparare più basta prenditi si due scelte riftano matteo rita noi da noi no si sopra di noi sopra di noi se gli spari non vengono da noi vengono da noi no cazzo leva di leva di matteo leva è malaserato 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 non mi ha dato malonimo 311 e niente è forte è forte devi ass ma cosa ma dai ma quanto gli ho fatto di danno cazzo sette kill stavamo matteo non è quanti danni gli hai fatto c'è t'acchiappato in testa dritto per dritto ciao ciao